il mio video di ritrovamento inaspettato ho visto che ha avuto un discheso successo ora sono quasi a 20.000 visite e non me lo sarei mai aspettato sinceramente perché anche se è vero che veramente ho trovato il viagra io l'ho messo così per scherzo e invece ha spaccato di brutto io vi ringrazio una 1 e rinnovo ancora il mio invito che se ci fosse qualche appassionato di Metal Detector in Toscana nelle zone di Livorno, Pisa, Lucca insomma ho zone anche limitrofe che interesserebbe fare qualche spazzolata in compagnia mi può contattare e magari facciamo affare insieme. Il mio numero di telefono è 347-631759 poi magari ho anche la theme, la wind. Il mio contatto su Facebook è Blascomatteoli e niente non sono gay, lo chiarisco subito, non sono gay quindi se mi contattate per quello scopo lì cercate altrove perché tanto con me perdete tempo e niente, tutto lì. Quindi appassionati di Metal Detector nelle zone di Livorno, Pisa o in queste zone qui, chiamatemi e andiamo a farci una bella spazzolata insieme e magari una bella ricerca di Viagra che poi ve lo regalo perché a me non mi serve. Io l'ho lasciato lì, è sempre lì, per ora non mi serve. Facciamo le corna. E niente, vi saluto e vi ringrazio ancora per tutte le visite che mi avete fatto al mio video. Ciao ciao!